Fattore false per incassare fondi pubblici. 21 persone denunciate con un sequestro per equivalente di 735 mila euro. È l'esito di un'operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di sette soggetti indagati per i reati di truffa aggravata, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e subappalto illecito. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale alla sede a conclusione delle attività di verifica fiscale condotte dalle fiamme gialle di Vallo della Lucania sul conto di alcune imprese edili operanti nel settore dei pubblici appalti. Gli sviluppi investigativi hanno permesso di riscontrare che le società verificate, anche con la connivenza di alcune cartiere e di soggetti prestanome, emettevano ed utilizzavano fatture per operazioni inesistenti al fine di contabilizzare costi relativi a via d'opere mai realizzate, incassando indebitamente fondi pubblici europei e regionali. A partire dall'analisi della documentazione acquisita, i militari hanno ricostruito l'intero sistema di gestione delle gare, appurando che la realizzazione dei lavori veniva illecitamente concessa in subappalto senza alcuna autorizzazione da parte delle stazioni appaltanti. All'esito delle indagini sono stati così denunciati 21 responsabili ed è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di 735 mila euro.